allora che ci sono anche le viole che l'ho preso queste qui le viole che ho già preso mi sento tipo osservata dalle api ragazzi non lo so non lo so ma non lo so mi sento tipo osservata dalle api non ne ho niente c'è mi sento tipo qua vicino c'è un alveare forse una mimica fa del miele una apona oddio ragazzi oddio 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 c'è una torre ragazzi ho sentito una api oddio comunque qua ho un nintendo e anche la play io vado fuori allora comunque ragazzi devo vedere questo video questi video questi perché ne ho fatti tanti per girare la telecamera quindi mi è venuto in mente che ho girato la telecamera e l'ho messo il telefono al contrario così da questa parte mi vedete così non c'era bisogno di fare più video qua sono davanti al cagnolone guardate questo è il piano è bellissimo lei obbedisce guardate andiamo a prendere il biscotto scusate ragazzi se entro in casa e sentite l'aspirapolvere solo che mia mamma vengono degli amici di mio fratello a fare una ricerca insieme a mio fratello quindi lei pulisce un po' perchè se c'è casino una figura di non lo dico perchè non ho l'educazione se sentite questo rumore se sentite questo rumore lasciate stare perchè devo prendere il biscottino lei allora il velidio il velidio si è messo proprio in tempo allora oddio allora ho preso il biscottino sembra sembra che tempo tipo dentro c'è la carne dura andiamo un altro biscotto per il mio altro cane intanto diamo il primo biscotto al primo cane che ho voluto ah comunque mi sta arrivando un cucciolo barboncino vieni lei non obbedisce tanto perchè ha 63 anni 64 anni quindi è normale e non obbedisca vieni amore biscotto vieni 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 biscotto 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 allora aspetta era aspetta 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 ferma ferma no 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 dopo aspetta era era aspetta allora lì lì brava seduta stampa a terra a terra a terra a terra a terra grava brava ora gira 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 no 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 brava ora vieni 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 allora ferma 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 Non so come fare perché una strada ci riesce Però ci riuscivo Vabbè